Oggi mangiava tutto guarda, come è pronta la minestra di raggio, c'è tutto guarda la carne e poi non dici che sua maestà non vi vuole bene, eh, che non vi penso è rimasta poca carne, che sto facendo? Posso fare qualcosa? Potete trattare un po' di formaggio se volete? E oggi è pasto, è arrivata a mangiare a tutti quanti la carne Belli sti bicchieri Mi sento che la prossima Pasqua la passeremo a casa Oggi è veramente pasto Allucada vivo il re Allucada vivo il re Voi! Voi, vieni! 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 E questo era il rumore? Può capitare. I miei uomini sono zelanti. Andiamoci in mano.